cari amiche e cari amici ormai consideriamo anche i nemici magari migliorano magari se smorzano magari s'addolciscono magari perché essere nemici magari si confrontano con pacatezza anche allegria o schiettezza amiche ma che bello appuntamento oggi pomeriggio bello c'è stato proprio un momento un momento lungo un'ora di persone carine di tifo carino e poi degli scambi belle cose viste con lo sciallone mi piace io ho visto un po il raverly della adesso non mi ricordo come si chiama la signora gna 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 stanno facendo delle belle cose le lollo con i pattern di questa signora dei capelli rossi e lo scialle è veramente bello è gotico bello la loro è una spiriti comunque ma chiesta presto questa produzione chiediamoci piuttosto quello ma come fai lolina è stato un bel appuntamento una bella chiacchiera grazie per chi mi ha indicata come futura ospite troppo carine vi faccio già una capatanta qua un poverine bello siete state tutte carine nessuna volgare nessuna parolaccia nessuno vabbè passerà passerà anche questo passa 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 tutto passa bello passa al brutto forza forza che dobbiamo sostenerci in questa povera nazione massacrata vabbè sapete cosa faccio la stessa sera tanto per cena due belle ciotole di minestra comfort food proprio confortante assai sulla stufa legna dovrei prepararmi una minestra per i prossimi giorni giacca la stufa accesa perché per adesso la accenderò solo la sera se non torna un freddo anche diurno ma che razza di vento gelido come terminato l'appuntamento anzi proprio già gli ultimi dieci minuti stavo iniziando a battere i denti sulla terrazza dove ho seguito dalla dalla terrazzetta con tutti i fiori con tutti i filari perché ho registrato un vocale di quasi un'ora a conclusione di questa vicenda ma anche giustamente c'era da far vedere delle cose parlato di filati parlato di cose sono prima me lo ascolto è prima di prima di condividerlo magari se non è il caso non lo so prima lo ascolto poi non è che corrego che taglio che faccio non sono capace non mi va di fare quelle cose lì poi un canale un po così un po un po rustico ma sono contenta di aver visto il trio tutto così carino che ci sia stata tanta bella clac sotto bello con lo scialle bella la storia dello scialle bella la storia di quell'evento qui e anche della moda della moda flamenco non ne sapevo nulla della moda flamenco le a noi aspettano i bambini e spezzine degli anni sessanta e anche un po 70 non vedevamo l'ora che arrivasse la fila di san giuseppe per avere la nostra spagnola col vestito flamenco queste bamboline che venivano messe tutte carine tutte a scalare con tutti questi vestitini colorati con tutti questi vola con tutte queste acconciature era un classico della fiera di san giuseppe la bambolina che non era la barbie e badate manco un po erano queste bambole con questi vestiti sontuosi molto colorati e noi tutte volevamo io forse ce l'ho avuta ma deve essere stata una di quelli che mi hanno massacrato subito i miei fratelli maschi che bella giornata che bell'appuntamento che belle le cose che ci hanno fatto vedere sono contenta insomma che si siano perché sono persone sensibili all'ora è sensibile è veramente un'amica o che bello questo rapporto così bello che si crea con una persona buona santo cielo o io mi sento viziata come come poche insomma sceglie tutte quelle cose di ma si ce l'abbiamo le formata si nel super mega wow di sopra non mi manca il pelo di cammello puro non mi manca lo yak non mi manca il cashmere di varie qualità ve la faccio è la facciamo domani l'apertura della scatola solo cashmere mi racconto del mio cashmere di come l'ho collezionata in tanta roba se n'è andata purtroppo mannaggia poi faremo quella dell'alpaca la scatola dell'alpaca che tra l'altro oggi lo reste sapete che io tengo tutto ma scovato un gomitoletto guarda ve lo metto qua ve lo metto con guardate le mie mani rovinate dalla stufa quello lì ve lo faccio vedere vicino è quanto mi è rimasto dalla matassa di tush alpaca noi abbiamo una fattoria didattica non mi ricordo come si chiama il paese ma non è tantissimo distante da da me da dove abito e in uno spaccio di paese questi negozi che hanno tutto tipo bazar dall'alimentari poi si vendono anche prodotti di vari tipi di filati di quest'alpaca stavo ricoltivata pensate poco come sto messa di un piccolo greggio insomma che fa parte così della fauna di una fattoria didattica gestita da una maestra elementare da un insegnante elementare di viterbo una signora torinese che si trova con altri soci insomma e ospitano comitive di bambini scolaresche tutte queste cose poi producono anche filati credo in umbra che le facciano a filare e scusate devo tenere in mano perché al caricabateria non mi sta sul supporto il cellulare e quello è un gomitolino poi ve lo faccio vedere che cosa ci ho fatto con quel bel filato di e sono contenta vi chiacchiererò delle delle cose belle che ancora non vi ho fatto vedere e si capisce perché è bello acquistare dalle lollo sostenerle perché quando è già maneggiato di tutto e di più in un momentaccio così brutto dove insomma è veramente tosto avere una scelta di cose diverse di filati diversi di tanti colori di filati alla portata di di molti insomma e se poco perché poco e se troppo perché troppo ne va bene però non si potrà certo accontentare di botto insomma sono andate l'altro giorno a un anno questa attività e sono un'avventura interessante carina sono state coraggione a investire tempo e soldi in una cosa così in un ambiente così ecco quindi abbiamo un sacco di belle scelte non finisco più di contare i filati perché quando andiamo a vedere sul sito noi filati delle lollo vabbè noi che siamo ghiotte ci sembra sì sono tanti ma insieme come iniziate a contare oggi non finivo più di scrivere ho scritto tre pagine perché sapete che la porta avanti questa cosa qua e ho fatto l'elenco dei filati puri puri nel senso non addizionati ad altro l'unico non puro non pura nel senso non monofibra che ho nominato credo che sia il matis che è un 50 per cento merino 50 per cento seta e oggi ho fatto nel vocale lungo l'elenco delle dei misti nel reparto invernale la sezione filati invernali i misti tutti e perché a me questa cosa che questi filati hanno troppo acrilico perché io non amo l'acrilico no vabbè che secondo di cosa scelgo insomma preferisco filati che ne abbiano almeno possibile a meno che non sia un'esigenza di qualcosa di particolare però questa cosa storta che i filati delle lollo hanno troppo acrilico ma anche dove è stato visto perché a parte le microfibre da 50 per cento di microfibra delle super cake che sono molto carine per scialli e per copertine da divano anche copertine per bambini ma c'è chi ci fa anche abbigliamento per esterno ma c'è anche chi si mette il cento per cento acrilico perché preferisce quello io per carità e se mi si chiede un parere lo do secondo determini però un negozio deve avere tutto non esiste il negozio a meno che non siano produttori di lade di cotone ma una merceria un negozio di filati non può non avere tutto una merceria ad esempio soprattutto se non ha anche l'acrilico per ma per tanti motivi è perché costano spesso meno di altri insomma quello già detto nel vocale lungo che spero di riuscire a caricare se non lo devo non lo devo censura e auto censura quindi bene è stata una bella avventura continueremo a parlare di quello che ci piace di quello che scegliamo dico il plurale perché tra i commenti dei miei vocali insomma c'è una bella partecipazione dite la vostra ed è giusto così mi dispiace che per il momento ancora non possiamo fare delle dirette però arriverà il momento che le potremo fare che ci sarà più scambio quindi bene quindi lo dico troppo spesso è lo so però che ci devo da fame scappa e stasera sapete cosa faccio molle ferretti del mal di cuore devo lasciare per non fare intruppare filato devo 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 lasciare la tensione blanda non come servirebbe a me mannaggia dovrei passare direttamente altre e mezzo allora già che ci sono visto tra 25 che rabbia ragazze che rabbia ragazze 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 ragazzi è una rabbia sì quando hai un attrezzo che non ti da retta vabbè comunque poso la maglietta di camilla che sto realizzando con il sirio e passo alla a fare una formellona che l'ho già cominciata dove l'è dove l'è che l'ecola qua faccio una formellona sarà una formellona bicolore spero e stasera cito ad un cino capitano un cino ci do cedo di uncinetto d'uncinetto del tre e mezzo credo cosa siete sì però forse sarebbe stato meglio un po di vino non c'ho voglia di stringere proprio e cosa sarà questa cosa qua se viene come dico io sarà un copri sgabello non mi veniva la parola quindi vi auguro quindi vi auguro una buona serata bene è stata una bella festa è riuscita come una bella festa bello lo scialle a urca bello quello scialle io non ce la faccio più a fare gli scialli ai ferri così grandi no non ho la pazienza non ho però bello mi è piaciuto il colore veramente attinente proprio lui è proprio coerente con quella bella storia che abbiamo ascoltato di bigolnik di antonio belli quei fiori ricamati non sono riuscita dal cellulare vedere bene ma mi piaceva tutto quel rilievo che belli 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 sì sì sta tornando il ricamo sta tornando il ricamo sulla maglia sta tornando ricamo sull'uncinetto camilla ha cominciato a fare le sue margherite qua e là sono contenta perché perché in questi momenti difficili stiamo veramente sostenendo il bello stiamo producendo del bello stiamo cercando il bello e i colori chiari colore 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 sto dialogando meno male che ci sono i traduttori con un po di di amiche della maglia dell'estremo est non nomino né una cosa nell'altra perché facile che ce lo cessuri non si potrà più parlare o nominare ma ma vi rendete conto cosa stiamo vivendo ecco ed è stato bello c'è stato uno scambio di cuori di di ringraziamenti bello visto delle cose belle ho visto una bella blusa e un pizzo bellissimo che bella questa cosa che possiamo dialogare con un po tutto il mondo nel mondo con le persone che condividono con noi questa passione per i filati tante persone generose che mettono a disposizione bellissimi progetti a gratis e su youtube ma che brave ma che brave ma che bello ma che bello ma che brave brave dobbiamo sostenerci non possiamo migliorare tutti tutto può migliorare ma ecco comunicare con garbo con pace con serenità chiedere quello che vogliamo sapere se le persone ci possono rispondere senza pretese insomma di garbo ma che costa essere gentili va bene abbiamo detto allora vado sapete cosa mi faccio ciò voglio dire ciò l'ho dolce io mangerei ciocorì se sia voglio qualcosa di sintetico ciocorì va bene vado vado a spalmarmi una galletta con la marmellata di fichi la confettura di fichi va bene posso farlo ma sì domani domani colazione domani lascia colazione qualcosa il dolce con le mele va bene buona serata sono contenta è stata una cosa bella è stata una cosa bella trovare delle amiche di qua che sono anche amiche di la amiche di su amiche di giù la nadia la vicky la la aiuto o mamma mia la gloria tante di voi la roberta tutte belle tutte la adesso non mi vengono a mente i nomi pensare che vedo le vostre immaginette non mi vengono a mente i nomi è un'amica carina che agli occhiali la mamma mamma vabbè tutte voi con le quali si chiacchiano tutti i giorni buonanotte adesso vediamo se riesco a caricarlo vocale buonanotte buonanotte volosità che vi mangiate voi mangiare anche un gianduioto tutto quello che non potrei mangiare un gianduioto tra il pane che non ce l'ho nel gianduioto nel pane mangerei il cioccolì c'ho voglia di cioccolata ce l'ho con la fondente ma mi ci tengo lontana c'ho unafta sulla guancia che guai vado a farmi va bene mi tolgo sto sfizio della galletta con la confettura di fichi e mi metto ad uncinettare mi metto ad ascoltare qualcosa di buono di buono buonanotte